Solo degli incoscienti possono pensare di chiedere un aumento del 30% della tasse sui rifiuti. Solo degli irresponsabili possono pensare di continuare a chiedere soldi ai cittadini in un momento di grave crisi economica e occupazionale che sta vivendo la città. Solo degli avventurieri, senza nel re e nel regno, possono pensare di continuare a giocare sulla pelle dei cittadini. Perché dico questo? Dico questo perché se dopo tutti gli annunci e i proclami che sono stati fatti, se dopo tutte le promesse di cacciare via la vecchia gestione, se dopo tutte le spiegazioni date anche in televisione a colpi di diagrammi per spiegare ai cittadini che nella nostra città la raccolta differenziata è aumentata, e il risultato è quello di vedere che a gestire il servizio della raccolta differenziata nella nostra città è sempre la stessa società che gestisce il servizio da diversi anni. Con le stesse inefficienze, con le stesse carenze, con le stesse inadembienze, beh, ci vuole una faccia tosta a chiedere un aumento del 30% dell'Atari. Anzi, una doppia faccia tosta. Perché anche l'anno scorso questa stessa amministrazione, questo stesso sindaco, chiedeva un aumento del 40% della tassa sui rifiuti. E devo dire che bene ha fatto l'anno scorso, ma sono convinto che anche quest'anno farà altrettanto bene il Consiglio Comunale a bocciare questa proposta di aumentare la tassa della raccolta differenziata, e quindi la tassa dei rifiuti. Ma il suo, come un'altra gela, è un no a prescindere? No, assolutamente. Io dico di più. Non solo è un no perché è motivato, ma questo no va anche in una direzione, perché ci sono due principi fondamentali. Primo, chi inquina di più deve pagare di più, e chi raccoglie o chi fa più differenziata deve pagare meno. E allora, se è vero quello che ci hanno detto i signori amministratori, che la raccolta differenziata nella nostra città è aumentata, non si spiega perché si continuano a chiedere aumenti della tassa dei rifiuti. E poi, permettetemi di dire un'ultima cosa, ma perché non parlate mai di premialità a favore dei cittadini che, devo dire, puntualmente continuano a fare la raccolta differenziata nella nostra città?